In questo video vi vediamo la preposizione for. Come preposizione di luogo significa davanti, come preposizione di tempo significa prima o anche fa. Vediamo adesso gli esempi. Come preposizione di luogo quindi abbiamo entrambi i casi, dativo e accusativo, essendo una vexel preposizione. Quando abbiamo la domanda wo avremo la preposizione for con il dativo, quindi da bus steht vor dem Bahnhof, wo steht der bus, der bus steht vor dem Bahnhof, Bahnhof è maschile, avremo quindi vor dem Bahnhof, wo steht der bus, quindi abbiamo stato in luogo. Lo stesso esempio con un verbo di movimento, il verbo fare per esempio, der bus fährt vor dem Bahnhof, quindi abbiamo il bus che va davanti alla stazione, quindi in questo caso abbiamo l'accusativo, wohin fährt der bus, der bus fährt vor dem Bahnhof. Abbiamo il verbo di movimento. Quando for ha la funzione di una preposizione di tempo avremo sempre il dativo, for più dativo. Quindi in italiano si traduce con prima, for più dativo. Quindi se voglio dire prima di cena, la cena si dice das Abendessen, è un verbo sostantivato perché das Essen avremo quindi al dativo vor, vor dem Abendessen, prima di cena. Con il significato temporale, for più dativo viene tradotta spesso anche con fa. Se voglio per esempio dire due giorni fa, un giorno fa, userò la preposizione for e poi metterò l'articolo e al dativo con il nome. Quindi se voglio dire un anno fa, un anno fa, un anno fa, un anno fa, utilizzerò for, metterò poi il dativo, iare di genere neutro, quindi avremo for einem Jahr haben wir uns kennen gelernt, ci siamo conosciuti un anno fa, un anno or sono. Se voglio dire una settimana fa, userò for, vor einer Woche, Woche femminile, vor einer Woche waren diese Produkte billige. Due minuti fa, vor zwei Minuten ist der Bus abgefahren, quindi è partito, l'abbiamo perso. Wir haben den Bus also verpasst, vor zwei Minuten. In molte espressioni idiomatiche troviamo for al dativo, vediamo. Ecco, si tradurrà anche for in questa espressione, avere paura di. Angst for, for vuol dire, abbiamo visto davanti, quindi non si traduce con for, ma si traduce con for e poi sarà al dativo. Quindi se voglio dire che il bambino ha paura del cane o di questo cane, dovrò dire, das Kind hat angst vor, ecco, vor e non von, è un errore tipico. Vor diesem Hund, Hund è di genere maschile, avremo quindi diesem. Anche con il verbo sich fürchten, temere, avere paura, si usa anche vor. Das Kind fürchtet sich vor dem Hund. Vor dem Hund. Qui è riflessivo, quindi è un sinonimo di avere paura in realtà. Fürchten e temere, sich fürchten, avere paura. Vor dem Hund. Anche qui è la preposizione für, davanti, ma si traduce con di. Ecco, altre espressioni idiomatiche in cui troveremo for, nell'espressione soprattutto, in tedesco due parole, für e poi allem, quindi non è über, ma è für. Bisogna studiarla, è un'espressione idiomatica. Wir haben heute für allem die preposizionen gelernt. Für allem, quindi soprattutto. E poi c'è anche recentemente, für kurzem, si può scrivere sia in maiuscolo che in minuscolo, si dice für kurzem. Anche qui abbiamo questa em, come für allem. Für kurzem. Für kurzem haben wir die Fälle gelernt. Für kurzem.